Benvenuti in questa guida top 7 barbecue elettrici di consiglio pro. Tra questi 7 abbiamo individuato il migliore, il consigliato, quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative. Ma partiamo subito. Al settimo posto troviamo Weber Q2400 barbecue elettrico 55. Potenza. 2,2 KW bracere e coperchio in ghisa di alluminio ampia maniglia termoisola. Vediamo la nostra valutazione. La qualità generale raggiunge 3 stelle. 4 stelle per l'offerta del momento, con particolari caratteristiche. 3 stelle per il rapporto qualità prezzo. Il nostro punteggio generale è di 77 punti. Trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione. Sesta posizione. Al sesto posto troviamo Tefal BG95 Easy Grill Adjust Barbecue. Costruito per ottenere un'elevata potenza grazie ai 2300 Watt. Distribuzione omogenea del calore sulla griglia. Con, ecco cosa pensiamo. Una qualità generale discreta. Un'offerta convincente. Con particolari caratteristiche. Straordinario il rapporto qualità prezzo. Il nostro punteggio generale è di 82 punti. Trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione. Quinta posizione. Al quinto posto inseriamo Barbecue elettrico BBQ9493 Suntech. Dati tecnici. Potenza 22400 W. Tensione 240 V. Vediamo la nostra valutazione. Una qualità generale discreta. Nell'offerta assegniamo 3 stelle. 5 stelle per le caratteristiche. Con un rapporto qualità prezzo adeguato. Il nostro punteggio generale è di 79 punti. Trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione. Quarta posizione. Al quarto posto non poteva mancare Weber Q 1400 Barbecue elettrico 43. Potenza. 2,2 K W. Bracere e coperchio in ghisa di alluminio. Ampia maniglia termoisolante. Due griglie di cottura. Vediamo il nostro parere. Nella qualità generale diamo 3 stelle. Valutiamo l'offerta 3 stelle. Nelle caratteristiche diamo 3 stelle. 3 stelle per il rapporto qualità prezzo. Il nostro punteggio generale è di 90 punti. Trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione. Terza posizione. Nel nostro podio inseriamo. Roventa KG 900 1000 e 812 Smokeless Grill Griglia. Griglia da utilizzare tutto l'anno in cucina. Emette fino al 70% di fumo in meno tecnologia smoke shield. Vediamo la nostra opinione. Qualità generale davvero eccellente. Un'offerta da cogliere al volo. 4 stelle per le caratteristiche. Con un rapporto qualità prezzo molto alto. Il nostro punteggio generale è di 92 punti. Trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione. Seconda posizione. Al secondo posto consigliamo. KSSR marchio registrato barbecue elettrico 2 in 1 barbecue. Con robuste due ruote per un facile trasporto. Pot. Ecco la nostra valutazione. Una qualità generale discreta. Interessante l'offerta. Con caratteristiche davvero soddisfacenti. Con un rapporto qualità prezzo molto alto. Il nostro punteggio generale è di 96 punti. Trovi informazioni nel link in descrizione. Prima posizione. Vince la classifica De Longhi BQ80 Barbecue Grill Elettrico. Barbecue elettrico. Prepara in modo pratico e salutare ottimi piatti di carne, pesce o verdure doppia griglia. La doppio. Ecco il nostro parere. Una qualità generale discreta. 3 stelle nell'offerta. 5 stelle per le caratteristiche. In definitiva accettabile il rapporto qualità prezzo. Il punteggio è di 91 punti. Info in descrizione. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale.